Grave incidente per un ragazzo di 14 anni di Alto Passo che è stato investito in via di Gavinana mentre stava recandosi alla fermata dell'autobus per andare a scuola. Il giovane è stato urtato da un'auto mentre stava attraversando la strada, sembra sulle strisce pedonali. Di sicuro il conducente della vettura che l'ha scaraventato sull'asfalto non si è fermato a prestare soccorso ma ha invece proseguito in direzione centro storico di Alto Passo. Il giovane dolorante e sanguinante si è trascinato sotto la pioggia a margine della strada. Alcuni passanti hanno dato l'allarme sul posto e è arrivato un mezzo della misericordia di Porcari che ha trasportato in codice rosso il ragazzo al San Luca. Alla fine il giovane ha riportato un trauma facciale, la rottura di alcuni denti e di una costola con 30 giorni di prognosi. Il fatto è stato reso noto per primo dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Valerio Biagini che ha lanciato un appello affinché eventuali testimoni si rivolgano alle forze dell'ordine. Delle indagini si sta occupando la polizia municipale di Alto Passo che sta visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.